Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio, sulla Fipilì, per il cantiere aperto per i lavori di manutenzione al viadotto del Turboni e possibili disagi tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 302 Brisighellese Ravennate, senso unico alternato e il restringimento di carreggiata per lavori all'altezza del chilometro 13 nel comune di Fiesole. La viabilità cittadina a Firenze per lavori in via Faenza fino al 10 aprile di vieto di transito nel tratto via nazionale via Cennini. Buonarsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!